io non sto fomentando pervenuto no, io non sto fomentando pervenuto va benissimo aizami è male che si ci hanno fatto aizami è male che si ci hanno fatto ma non è vero io non sto fomentando pervenuto lo volete voi queste cose? eh, per favore lasciamo stare lasciamo stare ma non posso lasciamo stare lasciamo stare lasciamo stare lasciamo stare lasciamo stare non dobbiamo fare niente non dobbiamo fare niente guardate come ci hanno trattato forza riprendete quello la realtà di come ci veniamo trattati i cittadini come siamo trattati hanno arrestato un ragazzo sulla questura la motivazione abbiamo rispettato la legge siamo nella nostra città non abbiamo dato contro la polizia non abbiamo fatto niente ci hanno strattonato non siamo cavorriti non siamo cavorriti non siamo cavorriti non siamo avicuri non siamo avicuri mi laudano non siamo avicuri ma non siamo avicuri